Buongiorno a tutti voi e bentornati. Oggi vi presentiamo il nostro nuovo numero del nostro trimestrale Lobby della Scienza e della Tecnica, il numero 53, uscito a marzo 2019. Ecco alcuni articoli e alcuni brevi presentati in questo numero. Ora, un articolo interessante dedicato alla pirografia Scrivere col Fuoco. Un articolo dedicato al modellismo navale, superpetroliera, lucina. Alcuni eventi. Ento Modena 2019. Mineral Pavia, Torino e Euro Mineral Expo. Joan George Repsol, il fondatore della specula di Hamburgo. Micromotorismo d'epoca. Edolo Mineral Show. Se al galoppo corre la fantasia. Un bel articolo dedicato al collezionismo. Fotomicrografia avanzata. Microscopia di grande ed elevata qualità. Mani d'oro 2019. Celebre il Medioevo. Un evento importante dedicato al ricamo e non solo. Robotica. Costruiamo un inseguitore di luce con Poldino Bot. Un evento dal Museo della Bilancia. Dalla miniera al selfie. E poi un bel articolo dedicato alla matematica. Il mondo è matematico? La rivista può essere acquistata in edicola, per abbonamento e anche nella versione online. Grazie per averci seguito e vi aspettiamo alla prossima volta. Buona giornata. Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video. Ciao. Grazie per aver guardato il video. Grazie.